S.V.S. si prende cura del tuo tempo. A partire da maggio di quest'anno, S.V.S. Pubblica Assistenza di Livorno rinnova il suo impegno nella lotta alla disoccupazione e all'esclusione sociale, con il progetto Insieme Solidali. La creazione di una banca del tempo solidale in cui tutti i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali in condizioni di disoccupazione potranno vedere tramutato il tempo dedicato al volontariato in crediti da spendere in formazione. Sei i corsi di formazione messi a punto dall'agenzia formativa, oltre alla possibilità di frequentare gratuitamente i laboratori di ballo e di teatro offerti in collaborazione con i vari partner di progetto. Un incentivo quindi a spendere parte del proprio tempo nel volontariato, ma soprattutto un investimento in se stessi per rimettersi in gioco nel mondo del lavoro e dell'interazione sociale. Aiutaci a curare il tuo tempo, con S.V.S. e Insieme Solidali.